Noi abbiamo appaltato il servizio di ristorazione in mai da oltre un decennio, l'ultima gara che è stata fatta e l'ho fatta io direttamente risale al 2007, il contratto è stato vinto da una grossa cooperativa regionale e quindi abbiamo già introdotto in quel capitolato d'appalto che poi ha dato luogo questa giudicazione, alcuni correttivi in termini di efficienza del sistema, in termini di possibile riduzione dei costi. Prima di tutto abbiamo introdotto un sistema di pronotazione automatica dei pasti e dei degenti che consente appunto di confezionare, di produrre soltanto i pasti per i degenti che realmente sono ricoverati nelle strutture. Questo sistema di pronotazione automatico legata al numero delle degenze che ogni direzione sanitaria tiene nel proprio registro è appunto la base per poi poter liquidare le fatture, le fatture nei confronti dell'edito appaltatrice che si dividono in termini di giornata alimentare tra colazioni, pranzi e cene. Noi abbiamo grossomodo una base di utensili che 400.000 pasti prodotti su base anno, suddivise appunto per colazioni, pranzi e cene e quindi in questa logica abbiamo cercato di ridurre al minimo lo spero di materia prima, utilizziamo soltanto al materiale prima che naturalmente vi dà luogo a pasti che vengono consumati. Tabelle dietetiche, abbiamo dato noi con il nostro servizio dietetico le composizioni, le grammature dei prodotti appunto alimentari che servono per confezionare i pasti e pertanto l'edito appaltatrice si attiene a queste che sono le grammature che noi abbiamo indicato e che riteniamo sulla base di quello che appunto il punto di vista del nostro servizio dietetico che sono quelle giuste per poter fornire appunto il corretto apporto calorico direttamente alle persone che sono ricoverate ai degenti. Abbiamo ancora un buon numero di dieti speciali, sono oltre 40 dieti speciali che sono collegati direttamente alle patologie che sono appunto seguite dai medici e dai strutturi ospedaliere su cui stiamo lavorando anche per cercare di ridurle per arrivare anche lì ad ottenere possibili risparmi e possibili riduzioni di costi. Abbiamo già introdotto nel capitolato i riferimenti, per la prima l'assessore regionale, la legge appunto 29 del 2002, quindi buona parte dei prodotti vengono già da coltivazioni appunto biologiche e sono soggetti e sono composti organismi non geneticamente modificati. Abbiamo introdotto il concetto delle filiere corte con il più possibile, con il chilometro il più possibile sino alla zero, diciamo così perché poi il chilometro zero non esiste, e quindi sono, diciamo così, azioni che sono già presenti da tempo in questi documenti tecnici, standard, i capitolati d'appalto, che governano il contratto in essere. Questa è la fotografia dell'esistente, il futuro secondo me è caratterizzato da un altro scenario, da un'altra visione, che può essere questa, si parlava di Intercenter, giova a ricordare cos'è Intercenter, è una centrale di comitenza regionale, struttura pubblica delle regioni che fa gare per altre strutture regionali, applica la stessa normativa che applicano le aziende sanitarie, i comuni, le province, quindi le norme sono le stesse, sono quelle del codice appalto e delle direttive comunitarie del regolamento che ha fatto il codice appalto, quindi la fonte di riferimento normativo è sempre la stessa, vale per tutte. Le gare telematiche le fa la centrale di comitenza, come le fa la singola stazione appaltante, anche il piccolo comune se le vuole fare e si è strutturato per farle. Il presupposto di Costituzione Intercenter è appunto la massa critica, quindi si presume che più si allarga la domanda più il prezzo unitario cali, questa è la logica che ha appunto dato origine ormai da dieci anni, la legge regionale se non mi ricordo male, del 2004, la 19 se non mi ricordo male, ha dato luogo alla centrale di comitenza, quindi su questo presupposto è dato di presumere che effettivamente i prezzi unitari calino, abbiamo già esperienze in questo senso, non nel settore della ristorazione, nel settore dei farmaci, nel settore dei dispositivi medici, nel settore delle utenze, che questo fenomeno funziona. Se è vero che questo fenomeno funziona soprattutto nei beni standard, farmaci che hanno ormai dei prezzi amministrati, dispositivi medici standard, la stessa siringa dovrebbe essere utilizzata per tutti gli ospedali della regione, mi sembra un concetto giusto, le utenze sono le stesse per tutta la regione, naturalmente. Quando si parla di servizi appaltati che scontano una caratteristica, diciamo, peculiare, collegata al territorio, forse questo fenomeno funziona un po' meno, forse, dico forse, perché io non ho la certezza, anche perché, giova a dirlo, la centrale di comitenza regionale fino ad ora non ha appaltato servizi di ristorazione, non ha appaltato forniture di diritto alimentare, non ha appaltato servizi di ristorazione, sta chiedendo appunto alla centrale di comitenza, alle varie aziende sanitarie, i dati dei propri contratti per appaltare, da cui a noi molto credo, servizi di ristorazione. Quindi ancora l'esperienza diretta in ambito regionale in questa materia, InterSenten non l'ha maturata. Ci sono resistenze in questo senso o vede maturare un consenso in questa direzione? Verso la concentrazione? No, 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 è un fenomeno ormai, voglio dire, accettato e consolidato, anche perché ha dalla parte propria un deterrente molto forte all'aggregazione della domanda, corrisponde anche a un incentivo sul finanziamento del Fondo Sanitario Regionale, che per quanto riguarda, mi correga l'assessore, per quanto riguarda noi vale l'85%, quindi se si raggiunge tra la fine del 2014 l'85% su 100 della domanda aggregata, si è aderito all'incentivo, altrimenti no. Quindi è un fenomeno, voglio dire, un incentivo molto forte questo. Quindi una volta che uscirà il servizio di ristorazione appaltato e il livello di centrale di comitenza, vedremo in effetti se, come credo, se otterranno questi benefici, teniamo anche presente il rischio che si corre, più ci si allontana dall'agenzia specifica, più magari meno si tutela, proprio un interesse, diciamo, della collettività locale, che effettivamente si vede un pochino più lontano, si vede. Questa è una sola considerazione, io non voglio poi trarre nessuna conclusione, ci mancherebbe altro. Si deve andare in questa logica per il discorso che vi ho detto, perché è appunto un dovere, un dovere che è considerato alle norme, diciamo così, nazionali che sono trattate le prime ad essere emanate, diciamo così, anche a livello di concorrenza europea e quindi siamo abbastanza all'avanguardia in Italia per questo fenomeno di gradazione della domanda che risale addirittura a lontano, nel 1997, con l'allora centrale di comitenza Consigli, quella nazionale, che esiste ancora, che anche là non si è ancora interessato, comunque, coraggimi se sbaglio, di servizi di ristorazione. Di più, c'è un altro fenomeno che è in corso, che è quello dei presti di riferimento, presti massimi di cessione, su cui sta lavorando l'autorità di vigilanza di contratti pubblici a VCP, in sigla, vedete i lavori sanno che cos'è, è una struttura che ha sede a Roma, con delle sedi regionali osservatori si chiamano, che ha l'ambizione di arrivare a definire presti nazionali standard di riferimento per tutti i servizi, non per tutti, per i servizi di ristorazione, la vanola e la pulizia, bisogna essere più corretti, e per buona parte dei farmaci e per buona parte dei dispositivi medici. È storia recente che questa autorità abbia chiesto, e ha proprio chiesto nel mese scorso, i dati a tutte le stazioni paltanti nazionali, quindi centrali di comitenza, anche singole aziende sanitarie, singoli comuni, per avere appunto contesto e cognizione di quelli che sono i contenuti e i prezzi di riferimento dei rispettivi contratti che sono in essere. Compilando queste schede abbiamo alimentato questa banca dati, da cui poi dovrà emergere un prezzo massimo di riferimento valido per l'intero territorio nazionale, che sarà appunto il prezzo di riferimento per le gare che saranno poi appaltate dalle varie stazioni appaltanti, aggregate o singole. Questi servizi sono comunque al pari delle altre forniture pubbliche, sottoposti ad un altro regime diciamo così abbastanza vessatorio a livello di normative, e cioè quella del legge sullo spending review. Voi sapete in qualità di esperti del settore insomma che il governo Monti due anni fa aveva attuato la prima e la seconda spending review, adesso l'attuale governo sta attuando la terza, si impone a livello normativo una riduzione dei costi e delle corrigenti prestazioni per un certo livello in percentuale che allora era fissato nel 5 e poi 10%, adesso con l'ultimo decreto legge che sarà convertito in legge entro il prossimo 24 giugno si impone un'altra riduzione del 5%, quindi vuol dire che di fronte a queste magre risorse pubbliche, sono sempre appunto più scarse e scarne, ecco c'è questo obbligo normativo di ridurre i prezzi. A cosa porterà? Non lo so, perché si possono anche ipotizzare i dubbi di legittimità su queste norme, perché effettivamente imporre da un contraente una riduzione to cure del proprio corrispettivo senza concordarlo strida un po' con i principi dell'ordinamento giuridico, però insomma questo è, e quindi una volta che sarà convertito in legge questo decreto dovremmo attuare un'altra spending review con i fornitori anche dei servizi di ristorazione, per vedere se è possibile ridurre i costi e le prestazioni, fatto 100 devi fare con 95, devi fare in buona sostanza, trovare il consenso del fornitore altrimenti in ipotesi inversa hai titolo per risolvere il contratto e attivare un'altra procedura di gara. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!